Ancora una volta la maggioranza dimostra tutta la sua fragilità, lotte interne e intestine che si evidenziano in maniera plateale all'interno della salute di commissione. Al primo appello non avevano una maggioranza, c'erano 13 persone, ma almeno erano presenti in aula. Subito dopo, rifatto l'appello, sono andati tutti via, tutti via dall'aula, dopo aver firmato però. Possiamo dargli due chiavi di lettura. Una politica, una maggioranza che non c'è più, una guerra interna tra presidenti di commissione, tra maggioranza e presidenti di commissione, un continuo ostacolarsi e mettersi il bastone tra le ruote. L'altro aspetto ben più grave è quello della presa in giro per gli abruzzesi. Chi va via e chi è assente in una salute di commissione ha una sanzione, una sanzione in termini economici sulla busta paga. Mettere la propria presenza su un foglio presenze e andare via dopo evita soltanto la sanzione, non la pessima figura che è quella che hanno raccolto oggi all'interno della seduta di commissione. Una pessima figura davanti agli occhi della maggioranza, davanti agli occhi dell'opposizione, ma soprattutto davanti agli occhi degli abruzzesi. Una vergogna, davvero una vergogna sta capitando in questo Consiglio regionale. Oggi è soltanto stata la goccia che fa traboccare il vaso, ma non credo che nel pomeriggio possa andare meglio. Ormai si mantiene attraverso l'appoggio dei collegamenti da remoto. Gente che si collega mentre viaggia, gente che si collega mentre sta a sciare, è qualcosa che non è più tollerabile, è qualcosa che fa vergognare noi come rappresentanti dell'istituzione e credo che comincia a far vergognare anche i cittadini dentro questa regione.